quanti soldi e tempo stai buttando perché non usi collettori rinforzati in acciaio per il tuo scagna vuoto forse come molti scanisti che guidano un vuoto pompato sei ancora abituato a sostituire i collettori originali con quelli in ghisa cosicché vanno letteralmente in fumo migliaia di euro di gasolio con i collettori che sfiatano devi sempre stare attento a non schiacciare troppo l'acceleratore in salita è un continuo a buttare soldi collettori nuovi e ore di mano d'opera per questo nasce collerock il kit di collettori rinforzati per scagna vuoto più resistente mai costruito che ti permette di risparmiare migliaia di euro migliorando la qualità e la sicurezza del tuo lavoro collerock infatti è realizzato con una lega di acciaio rinforzato indeformabile resistente alle altissime temperature generate dal tuo possente vuoto così ora puoi schiacciare quanto vuoi e arrivi tranquillo alla pensione migliaia di scanisti in italia e in europa hanno già montato i collettori collerock ok ma il mio meccanico insiste a montarmi ancora con gli ghisa beh sappiamo che in giro c'è ancora qualche meccanico furbetto che spaccia la solita ghisa così tu gli lasci sul banco altri soldi per l'ennesima volta e lui si garantisce il tuo ritorno ma per tua fortuna sempre più officine consigliano a occhi chiusi i collettori rinforzati collerock per averli chiama ora lo 049 49 07 110 ti arriveranno in pochissimi giorni anche nella tua officina di fiducia grazie a tutti grazie a tutti